Non piace ai residenti della zona mare a Sassogna la chiusura nel fine settimana di un tratto di strada per consentire ai ristoratori di utilizzare i tavoli all'esterno. Quando il fine settimana l'altra strada principale viene chiusa, qua è un delirio. Resta alto il numero dei contagi nell'Ascolano, anche ieri sono stati trovati 30 positivi, soltanto uno invece nella provincia di Pesaro e Urbino. Proseguono spediti i lavori di riqualificazione della Darsena Borghese a Fano. Entro il mese di agosto, prevista una prima inaugurazione. È stata presentata a Fano dall'assessore regionale Stefano Guzzi, la nuova legge regionale per il rilancio economico dell'edilizia. Tante le novità a cui si aggiunge il super bonus del 110%. Torna la musica dal vivo all'Arena BCC di Fano, venerdì prossimo, sul palco i musicisti della città, per un evento dedicato all'ex assessore Fabio Ugucciori. Benvenuti a questa nuova edizione della telegiornale. Cari telespettatori di Fano TV, diamo come sempre spazio alla cronaca. Cominciamo da uno scontro tra un autobus che è venuto questa mattina, e un'auto poco dopo le 9 nell'incrocio tra Via della Marina e Via Caduti del Mare a Sassogna di Fano. Secondo i primi rilievi, la Dacia, che percorreva Via della Marina con a bordo una 39enne straniera ed una ragazza di 16 anni, non ha dato la precedenza all'autobus che invece percorreva Via Caduti del Mare. Il conducente del bus, un cinquantenne del posto, ha richiesto un intervento del 118, mentre sono rimaste illese le due persone a bordo dell'auto. Sul posto la polizia locale. Un incendio invece sta impegnando da ieri pomeriggio i vigili del fuoco a Forcia. Siamo in provincia di Ascoli Piceno. Il rogo si è sviluppato in un capannone in cui erano immagazzinate circa 2000 rotoballe. Sul posto le numerose squadre dei pompieri che hanno domato le fiamme, smassando la paglia per le operazioni di bonifica. Il fuoco si è esteso anche ad un ettaro adiacente di campo con stoppie. Nell'incendio sono stati distrutti un'auto e un mezzo agricolo, mentre una vettura è stata parzialmente danneggiata. Nel rogo divampato ieri, dopo le 12, sarebbe rimasto ferito il proprietario del capannone che ha riportato lievi ustioni ed è stato soccorso dei sanitari del 118. E sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Torniamo invece adesso a Fano, nella zona del mare, dove continua la protesta dei residenti che, dopo il provvedimento del Comune di chiudere nel fine settimana il tratto finale di via Cesare Battisti, lamentano traffico e situazioni pericolose che si riversano nella via parallela. Letizia Marchionni. Troppe auto e traffico in una strada molto stretta dove rischiano di crearsi situazioni pericolose. Continua la protesta dei residenti di Sassogna di Fano per la chiusura nel weekend del tratto finale di Viale Cesare Battisti che collega Viale Adriatico a Viale Dante Alighieri all'altezza dell'anfiteatro Rastat. Le transenne su Viale Cesare Battisti sono state posizionate dal Comune per impedire l'accesso ai veicoli, concedendo così ai ristoratori di poter lavorare all'esterno, dato il periodo buio passato a causa dell'emergenza sanitaria. E ci troviamo nella parallela di Viale Cesare Battisti, zona che nel weekend viene invasa dal traffico, cosa che non piace affatto ai residenti. Non riusciamo proprio a capire come si possa convogliare tutto il traffico di Viale Cesare Battisti in una strada così stretta, probabilmente la più stretta di tutto Viale Adriatico. Qui è pericoloso soprattutto perché siamo tutte persone, tutte famiglie con bambini piccoli, quindi anche quando scendiamo dobbiamo stare super attenti perché ci sono file di auto continue che passano anche a velocità sostenute nonostante la via sia corta, senza poi parlare dei parcheggi che a volte fanno anche in maniera un pochino selvaggia e spesso ci troviamo anche le auto rovinate. Ogni settimana trovo una riga nuova come regalo. Ci sono anche anziani che si recano nel supermercato qua a piedi, è trafficata di persone che passeggiano per andare a fare la spesa e quindi si trovano spesso a dover schivare sia le buche che le macchine che passano. Questo non è un problema solo per noi, ma anche per la gente che fa la fila nei locali. Quando il fine settimana l'altra strada principale viene chiusa, qua è un delirio. La strada attualmente viene chiusa con delle transenne il venerdì, il sabato e la domenica, dalle ore 18 alle 24. Abbiamo fatto numerose segnalazioni al comune, hanno spiegato i residenti. Noi capiamo le esigenze di attività e locali, ma la situazione è pericolosa ed invivibile per noi. Anche con la pioggia, quando magari i tavoli all'aperto non servivano ai ristoranti, ha evidenziato Michele, Viale Cesare Battisti è rimasto comunque chiuso. E alle 24 poi comunque non viene riaperta subito questa strada. Cioè ci deve essere qualcuno che lo va a aprire, se no continuano anche mezzanotte, le 1, le 1 e mezzo, a girare in questo viottolo quando c'è qualcuno che con la finestra sotto, sopra la strada, dorme, vorrebbe dormire, più che altro. Poi i tombini passano sopra le macchine, fanno un casino alla dosca. Ecco, che cosa proponete? Magari, non so, la chiusura di questa strada per convogliare il traffico da un'altra parte? Per lo meno, quando chiudono quell'altra, di chiudere anche questa, in queste ore dalle 18 alle 24, magari un po' di macchine gireranno nelle vie a seguire che sono un po' più larghe, oppure bisogna studiare una cosa diversa. E ai residenti risponde l'assessore di riferimento Etienne Lucarelli. Sentiamo. A rispondere alla protesta dei residenti di Sassonia e dalle numerose segnalazioni arrivate alla nostra redazione sulla chiusura del tratto finale di Viale Cesare Battisti, è l'assessore alle attività economiche del Comune di Fano Etienne Lucarelli. Ovviamente che tutte le misure che stiamo cercando di prendere vogliono cercare di rispettare un equilibrio tra il fare lavorare le attività in questo momento così delicato, ma anche concedere ovviamente ai residenti la tranquillità che ne necessitano, consapevoli che i residenti alla fine sono dei lavoratori, quindi anche loro hanno la necessità di vivere e di portarsi a casa lo stipendio. Detto questo, noi all'inizio avevamo chiuso quella strada perché le attività, i ristoranti, i bar non potevano lavorare al chiuso, quindi soltanto occupando quella parte di marciapiede potevano lavorare. Siamo stati vicini anche ai residenti, più di una volta sono andato a parlare con loro e mi sono subito reso conto che la situazione soprattutto della via dietro Cesare Battisti che è una via molto piccola e veramente molto delicata, quindi abbiamo subito aperto la strada e in questo momento dato la possibilità della chiusura soltanto venerdì, sabato e domenica che sono i giorni ovviamente più pieni dove la gente esce, dove quei locali hanno necessità di lavorare. Detto questo, credo che se continuano a esserci dei problemi bisogna che capiamo come agire meglio, ad esempio se possiamo utilizzare altre vie visto che quella è una via che diventa anche pericolosa perché è una via molto stretta dove parcheggiano i residenti, quindi comunque c'è sempre un aperto dialogo e quindi una possibilità di confronto. Il mio telefono alla fine di questo periodo ho sentito tutte le attività economiche e quindi disponibilità massima, ecco, va trovato il giusto modo per far sì che la città possa continuare a vivere sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista residenziale in un momento che ovviamente sta cambiando totalmente le nostre abitudini, in un momento molto difficile, in un momento dove molte attività rischiano di chiudere, quindi in un momento molto delicato dove tutti dobbiamo avere l'attenzione giusta e la consapevolezza che le cose vanno costruite insieme. E adesso la pandemia nelle Marche, ma anche oggi non ci sono decessi da registrare, resta invece alto il numero dei positivi riscontrati nell'ultima giornata che in totale sono 39. Nella provincia di Pesaro Urbino è stato registrato un solo caso, in testa però, in testa per numero dei nuovi contagi c'è Ascoli Piceno con 30, infine negli ospedali della regione c'è un ricovero in meno rispetto a ieri, ma in terapia non intensiva. Rimane invariato il dato dei degenti negli altri reparti. La Guardia di Finanza di Ancone, insieme all'Agenzia delle Dogane, ha individuato un passeggero di nazionalità svizzera in partenza, con destinazione Medioriente, che nascondeva nei bagagli una placca d'oro del peso di 2 kg per un valore stimato di mercato di oltre 86 mila euro. La placca era trasportata senza la necessaria dichiarazione di unità di informazione finanziaria per l'Italia. Il passeggero è stato quindi sanzionato per oltre 8 mila euro, mentre l'oro è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Proseguono spediti i lavori di sistemazione, riqualificazione della Darsena Borghese di Fano. Entro il mese di agosto ci sarà una prima inaugurazione. Simona Zonghetti. Dopo una breve interruzione a causa della quarantena degli operai, si tira dritto per completare il primo tratto della passeggiata romantica alla Darsena Borghese a Fano. Il progetto, firmato dall'architetto Bursi e fortemente voluto dal sindaco Seri, prevede anche un nuovo sottopasso lungo via Nazario Sauro, grazie ad una convenzione con RFI. A breve intanto verrà inaugurata la prima tranche dei lavori che proseguono a buon ritmo a fare il punto, e l'assessore Fabio Latonelli. Adesso stanno arrivando gli arredi che abbelliranno tutta la zona. Insieme all'assessore Brunore, che mi sta aiutando a seguire questo cantiere in questo periodo, si sta lavorando sul verde, quindi è un impianto innovativo che permetterà la crescita del verde in un tempo molto breve, per poter avere un decoro anche per la data dell'inaugurazione. Stanno arrivando anche le pavimentazioni che permetteranno l'accessibilità, più fruibilità, come avevamo detto in altre occasioni, per i disabili che costituiranno tutta questa discesa che adesso la vediamo asfaltata, ma in realtà poi arriveranno dei materiali adeguati per questa zona. L'illuminazione sarà un'illuminazione scenica bellissima, con anche integrato questo proiettore che darà dei messaggi pubblicitari, ma anche turistici, delle varie iniziative della nostra città proiettate sul muro antistante alla Darsena. L'assessore poi ha ringraziato la Lega Navale e l'Associazione Marinai d'Italia, che doneranno al Comune quattro telecamere. Inoltre si sono resi disponibili a ripulire l'altra sponda, non compresa nell'appalto. Questo è il primo stralcio che, come abbiamo sempre detto, comprende dalla facciata della Darsena fino al ponte ferroviario. Poi ci sono altri due step che ancora sono in fase di progettazione e dobbiamo richiedere anche dei finanziamenti esterni che comprenderanno appunto dalla ferrovia fino alla capitaneria e poi ci sarà il terzo stralcio che sarà l'altra sponda, quella al lato nord, diciamo. Quindi il taglio del nastro quest'estate? Sì, quest'estate tra il fine luglio e i primi di agosto noi vorremmo appunto tagliare il nastro di tutta la passeggiata e anche della Darsena. Ancora un incidente avvenuto intorno alle 12.15 lungo la strada di Mezzo in località Metauriglia di Fano. Il conducente di un autocarro Renault, un fanese di 39 anni, ha urtato contro un ramo penzolante di un albero all'altezza del vetro anteriore. A seguito dell'urto è finito fuori strada, l'uomo non ha riportato lesione sul posto, la polizia locale per i rilievi di legge. È stata presentata invece a Fano dall'assessore regionale Stefano Guzzi la nuova legge in materia di edilizia. Tante le novità a favore di un rilancio del settore che prevede anche l'utilizzo del super bonus al 110%. Angelica Panzieri. ...agricole possono usufruire di questa legge per l'ampliamento della loro abitazione. Una risposta incisiva che darà un contributo significativo alla ripresa economica e imprenditoriale. Si è mostrato soddisfatto ieri l'assessore regionale Stefano Guzzi, intervenuto nella tenso struttura di Sassonia a Fano nel corso dell'incontro pubblico da lui organizzato sul tema norme innovative sull'urbanistica per il rilancio del lavoro e dell'economia. L'incontro è stato voluto anche dagli esponenti di Forza Italia per illustrare i temi principali e le novità offerte al settore dell'edilizia dalla legge regionale 46 ad iniziativa della giunta regionale recentemente approvata in Consiglio. A introdurre il dibattito Mauro Falcioni, responsabile di Forza Italia Fano, a cui sono seguiti gli interventi di Adriano Giangolini, dirigente all'urbanistica del Comune di Fano, Carlo Cecchettelli, membro della giunta esecutiva della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, e Jessica Marcozzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Intervenuto in collegamento telefonico anche l'onorevole Francesco Battistoni. A Guzzi si è detto entusiasta in merito all'approvazione della proposta di legge Disposizione in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia, che tra le altre cose consente di poter usufruire del super bonus del 110% previsto dal decreto rilancio. Quando parliamo di piano casa e di rigenerazione urbana parliamo di due iniziative, una che ti consente di ristrutturare la tua abitazione e di ampliarla anche fino al 40% col piano casa, e per quel che riguarda la rigenerazione urbana questa nuova legge che consente di applicare il 110% perché ci sia un miglioramento o antisismico o energetico. Però entrambe queste norme non lasciavano intuire o capire fino in fondo se si poteva o meno anche abbattere l'abitazione e ricostruirla completamente potendo fruire del bonus 110%. Io proprio avevo voluto inserirmi in questo senso nel dire che anche il completo abbattimento e il completo rifacimento di un immobile comprensivo anche dell'eventuale ampliamento del 40% poteva essere considerato rigenerazione urbana e quindi semplice ristrutturazione. Quindi dopo questa norma approvata noi possiamo anche abbattere la nostra abitazione e ricostruirla da nuovo sullo stesso suolo. Quello non viene considerato nuova abitazione bensì viene considerata ristrutturazione. Oltre al dimezzamento degli oneri di urbanizzazione perché considerandola ristrutturazione noi possiamo godere anche del 50% di sconto sugli oneri di urbanizzazione. Ho già in mente altre due bondifiche che ugualmente andranno a semplificare dei percorsi per poter intervenire sulle nostre abitazioni ma quello che serve e questo ormai è assodato lo chiedono un po' tutti a livello comunale i sindaci ma anche i nostri tecnici i nostri imprenditori è un rifacimento proprio completo della legge urbanistica. Vedrà la partecipazione degli artisti più interessanti del panorama fanese l'evento di beneficenza un evento musicale dal titolo Tra palco e cuore in programma venerdì prossimo all'Arena BCC di Fano. Filippo Pucci Si chiama Tra palco e cuore la serata organizzata da tre associazioni del territorio Paese dei Balocchi Cooperativa Tre Ponti e Proloco di Fano si tratta di un evento musicale tutto fanese il cui incasso andrà in beneficenza in aiuto chi si trova in un momento di grande difficoltà. È una serata importante perché ha uno scopo importante che è quello di raccogliere fondi per una realtà come quella della Mesa di San Paterniano artisti fanesi che si sono resi disponibili per cantare gratis service gratuito insomma tutti lavorano gratis per poter portare a casa questa serata per poter raccogliere quanti più fondi possibili per questa realtà fanese importantissima. Poi non dimentichiamo il ricordo anche di una persona che ha costruito quel luogo l'ha proprio fisicamente anche costruito ma l'ha soprattutto pensato in anticipo rispetto a tutti è un luogo dove ci incontreremo e questa persona sarà ricordata nella serata che è Fabio Cuccioli. L'iniziativa in programma venerdì 9 luglio alle ore 21 alla BCC Arena di Tre Ponti vedrà salire ed esibirsi sul palco dopo un lungo periodo di fermo dovuto al coronavirus diversi musicisti e cantautori fanesi. Mi hanno chiesto per l'appunto gli organizzatori di radunare alcuni artisti di chiedere di coinvolgere alcuni artisti artisti che sono i Carta Carbone Marco Sanchioni la Borghetti Bugaron Band Eleonora Fiorani e Simone Cardinetti con il loro nuovo progetto Annita Lollo Project Frida Neri e Armando Dolci quindi grandi nomi della città per un evento eccezionale. Per partecipare all'evento è possibile prenotarsi contattando questo numero di telefono. Ci sono tutte le caratteristiche per non perdere una serata che è per la città e per ricordare Fabio. Al via gli eventi per celebrare il patrono di Fano San Paterniano il programma parte domani mercoledì 7 luglio alle 18.30 con la Santa Messa presieduta da Monsignor Giovanni Tonucci e alle 21.15 con il concerto d'organi del maestro Giorgio Benati. Giovedì 8 luglio invece dalle ore 18.30 si terrà la Santa Messa presieduta sempre da Monsignor Giovanni Tonucci e alle 21.15 il concerto del duo Flauto e Arpa. Gli eventi proseguiranno poi fino al 10 luglio giorno in cui sarà celebrata la solennità di San Paterniano Questa sera chiudiamo il nostro telegiornale con una foto nella quale il giornalista fanese Gianni Marco Tulli intervista Raffaella Carrà una giovanissima Raffaella Carrà nell'aprile del 1962 in un camerino del Cinema Teatro Politama Cesare Rossi di Fano è tutto grazie per aver seguito il nostro telegiornale l'informazione torna su Fano TV domani mattina alle 7 in diretta con la Rassegna Stampa arrivederci a tutti a tutti e a tutti a tutti